Ciao ragazzi, benvenuti in Raidball Oggi siamo nel consolato E oggi raga, volevo parlarvi un po' di una Oh Volevo parlarvi un po' di un argomento molto molto importante Ovvero il fatto che il gioco mi faccia rimanere sempre in Oro 2 E mi faccia perdere partite dopo partite Per farmi perdere il grado Allora raga, io sono consapevole di non essere una cima a giocare Sono consapevole di non essere così un pro Ok? Però io sono anche consapevole che il gioco quando ci si mette è bastardo raga Io sono due stagioni che rimango sempre in Oro 2 E stavolta raga non mi va proprio più Stavolta mi sono proprio scocciato, non mi va proprio più E quindi eccolo qua Vediamo se ci riusciamo ma la vedo difficile Ah l'ho ucciso, perfetto Quindi ragazzi miei Ho deciso di reclutare 5 di voi Innanzitutto perché 5 Perché io raga non sono sempre disponibile Quando vi va potete giocare da solo Insomma formare un... Non un clan però Perfetto, ho capitato, ho ucciso quello lì Perfetto, questo è nello stanzino qua Di sopra Lì ha aperto E chi l'aveva notato raga? Eccolo Bella E quindi ragazzi questi 5 di voi mi aiuteranno nella riregistrazione del video E mi aiuteranno ad arrivare a platino Perché io questa stagione arriverò a platino punto Cioè non esiste raga Lo sento Attivo il sensore Attivo il sensore Ok Ok Come cavolo ho fatto a vedermi non si sa Però va bene così Quello della nostra squadra è crashato Ho acquittato, non ne ho idea E quindi raga Proprio queste cose mi fanno andare in bestia Ok Quindi io come farò? Innanzitutto vi dico che tutti quelli che giocheranno con me Dovranno essere platino Solo un operatore alleato Proteggete il contenitore di biorischio Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio Cioè io non lo farò Ok Bastardo E niente raga Mi sono stufato di perdere in questo modo Io mi sono proprio stufato Cioè io sono livello 172 E sono ancora in oro Cioè Cioè raga non si può sentire Quindi ho deciso di reclutare 5 di voi Faremo gruppo whatsapp Vi insegnerò le mie tecniche di registrazione Così Sì Certo voglio spaccacquato Così mi potete aiutare pure nella registrazione Ogni qualvolta registrerò vi manderò un messaggino Così da dirvi Raga io sto registrando Per cui Venite Quindi raga mi servono delle persone Abbastanza Eh eh Volevi Ti avevo sentito Abbastanza Come si dice Non mi viene il termine Cioè che si È disponibile raga Abbastanza disponibile Perché io di solito registro il pomeriggio Gente che magari non può il pomeriggio Insomma Perfetto Allora vediamo un attimo Se qualcuno è sopra Allora non sento rumori Fai tra l'altro mi sono mescolato le cuffiette oggi Bella amico mio Mi è piaciuta Gli ultimi due saranno dentro Per forza Vai proviamoci Rimane un nemico Perfetto Carica in posizione Ok Allora ragazzi Io vi dico che I requisiti Per Porca vacca Sarà pure bagate Per far parte di questo Chiamiamolo team raga Perché clan Non mi piace assolutamente A perché io non sono un clan competitivo B perché mi sembra Quello delle tribù africane Il clan E E io proverò con Quattro ragazzi Platino ragazzi Saremo tutti quanti Saremo tutti quanti Arriveremo tutti quanti a platino Quindi Altrimenti Cioè Bisogna essere per forza platino Chi è che viene con me Perché Altrimenti Non si arriverà mai Oh Qua non si può mettere lo Jäger Un'altra volta Che palle Madonna Allora io sono lo Jäger Per cui Andiamo un po' di giro Raga vai E se andate Sulla mia pagina facebook Innanzitutto Mettete like raga Perché Non ho mai Tu bastardo Ok Glatz bastardo C'è i fuzzi di là raga Ok se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà la tua posizione è stata compromessa ultimo attaccante rimasto in vita oh bella e quindi raga vi parlo qua nella fase preparatoria perché almeno riusciamo a parlare più tranquillamente perché poi in partita mi concentro di più appunto sentate nella mia pagina facebook ragazzi trovate un post dove appunto vi spiego tutti i requisiti per bene e innanzitutto appunto quindi mettete like alla mia pagina perché non ho mai sfammata effettivamente infatti siamo ancora a 200 like sulla pagina facebook quindi vi invito ad andare a mettere like perché soprattutto sulla pagina che io vi vi posso scrivere qualcosa se registra... cioè se registro oppure no come state insomma vi scrivo dei post ogni tanto che mi piacerebbe che leggeste raga e appunto se andate nella pagina trovate un post dove vi spiego per bene tutti quanti i requisiti vattene a mori ammazzato poi tra l'altro pur si è venuta a far sponchi quello proprio che doveva stare di sotto ah sono di sopra perfetto andiamo a decidere a dare una bella fizzata sopra ok e quindi trovate quindi questo post dove voi commenterete con i vostri id chiaramente se fate parte di quei requisiti e io poi vi inviterò a giocheremo insieme vediamo se ci troviamo bene insomma e... eccolo lo sento e poi farete parte del mio team così registriamo insieme ogni tanto farò sentire anche le vostre voci non sempre chiaramente ogni tanto farò sentire pure le vostre voci sarà carino insomma vincere per arrivare a platino e così combattiamo questo maledetto script che ci distrugge cavolo spaccate questo ok ok porca va era lì dentro questo non si è suicidato malissimo ed eccoci qua con frost e raga questo che vi ho parlato di cui vi ho parlato oggi è il piano A diciamo se non si dovesse verificare tale situazione cioè che continua il gioco ad essere talmente scriptato da farci perdere un sacco di partite a quel punto raga procederei con il piano B ovvero vedrò come devo fare contatterò dei mega super ex diamantoni e mi farò rancare da loro cioè non rancare e giocheremo insieme a loro così vedremo se effettivamente è il gioco che dà problemi oppure sono io che non so giocare effettivamente cioè è l'unico modo per capirlo alla fine cioè se voi ci pensate e quindi mi invito a lasciare un like pure al video così cerchiamo di superare i 500 allora chiaramente da questo da questo progetto non è che si elimineranno del tutto i tostapane quindi i video con i tostapane ritorneranno con Frost con Luna con Maes con Matrix con chiunque esso sia se è certo amico me lo volete di che è appeso o no trappalozze o no Oh L'ultimo nemico rimasto Qua raga Porca vacca Volevo fare il cretino E qua volevo distruggerlo A tutti i costi raga Come un operatore alleato rimasto Madonna che palle Ho capito che ho sbagliato io Ma eravamo in tre Cioè raga veramente se perdiamo sta partita Non so più che cosa fare Stiamo giocando pure con uno in meno Alla finestra Dai 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 Ma cosa fa Ma è stupido Perché lo vuole prendere per forza col coltello Tutti i nemici Ma cosa Ma che ti credi forte Meno male che questo tiene la mira di me C'è ma bene Ed eccoci qua Con Giaccao Boom Oh Ma guarda tu ho colpito lo spigolo Ma che cavolo Allora Non so effettivamente se hanno pulse Perché mi hanno distrutto subito il drone Oh Mamma Convido che ero una testa di Ma che è il drone di eco quello Ma serio Che spettacolo raga Io pensavo fosse la testa di qualcuno È stata bellissima Io direi di entrare dal gabinet Perché da qua in teoria Fanno tutto quel che non devono fare E niente Spero che questo progetto vi piaccia raga Chiaramente Chi è che deve far parte Di questo team con me Non deve essere Già impegnato con qualche altro clan Chiaramente Questo è stupido Ma era qua dentro Pensavo fossi sulle scale No Pensavo che era sulle scale Un operatore alleato Un operatore alleato Ah ce n'è pure un'altra Perfetto Eh raga Dovevo andare per forza Sul 3 a 3 Non c'è niente da fare Vabbè Io confido nel mio compagno Ma Questi secondo me Sanno la camper Non per tutti qua Oh Con Jackal E con Ash Non riesco mai a fare nulla Sono due operatori fortissimi Ma che non riesco mai a fare nulla con loro Mai Oh l'avevo visto io da dietro Ed eccoci qua Cosmoke Andiamo a fumare un po' Raga Quindi non vi preoccupate Raga Soprattutto non ve la prendete Se Ok Non ve la prendete Se gioco con altri Invece che con voi Perché insomma Siete Abbastanza Quindi Non siete tantissimi Altissimi Però Non siete neanche pochi Entra Madonna Il contenitore di biorischio È stato preso dagli attaccanti Cioè Perde contro si qua Raga Non si può E come la viti Rotto le palle Sponchillare Non sponchillare Vai Eccate questo Maledetta Allora Per una sicurezza Raga Facciamo in questo modo qua Poi tra l'altro Ho distrutto pure lo Jäger Cioè Contro si qua Raga Non si può Perdere Ma è fuori discussione Proprio Perfetto Così Siamo un pochino Più tranquilli Possono uscire sempre Dalla porta principale Però insomma Posso stare un pochino Più Quieto Sono convinto Di aver colpito Ok Tornate a occuparvi del contenitore Dopo aver neutralizzato la minaccia Ok Dai Sempre l'arma Come al solito Che devo ricaricare Dovevo subito cambiare la secondaria Ho sbagliato Ma c'è Valkyrie Ma la guardi Operatore d'attacco Cioè raga Io non ho parole Proprio Con perde conto Sti qua Cioè ma Non è possibile Non è possibile Sono dei nabi Di cavolo Quanto hanno fatto Cioè io ho fatto 13-5 Ma perdo Ma per colpa mia Siamo in 4 Sono tutti oro 3 Ma si vede Non ne posso più di perdere raga Non ne posso più 2818 punti No raga Io Andate subito sulla mia pagina facebook Tutti quelli Platino 2 Platino 1 Cercate Cioè Io non ne posso più Io non ce la faccio più Al prossimo video Al prossimo video